a destra 2 in sinistra 2, lunga apre 50 attenzione, sfera a destra 1 vai 60 alla casa a sinistra 2, meno gira 30 tornante a destra 1 50 e destra 4, meno lunga chiude subito in ritardo, inversione a sinistra, apre vai 40 allarga a destra 1, subibio apre vai 80 destri in ritardo a destra 3, meno 2 tempi chiude per sfera a sinistra 4 al cancello chiude e sfiora 80 sfiera a destra 4 piena 80 attenzione strettoia a destra, sinistra 30 destra 2, meno tieni in sinistra 2, sfiora e destra 3, più per sinistra 4, meno sfiora in destra 3, più vai 50 vai 50 attenzione, anticipa a sfiora a sinistra 2, lunga apre strettoia continua piena vai vai 80 sfiora a cielo sinistro 50 e ritardo a destra 2 vai 60 attenzione, strettoia ingresso a sinistra e sfiora a destra 4, meno apre per destra 3, più sfiora in sinistra 4, più vai 80 destri vai sfiora a sinistra 4, piena per sinistra 3, meno lunga lunga buona al cartello 80 sfiora a destra per sinistra 3, più lunga lunga vai 50 e sfiora a destra 4, più 2, tempi per sinistra 3, meno lunga sfiora vai 3, meno lunga sfiora vai per accenno destro vai 50 destra 2 30 taglia a sinistra 2, più apre e sfiora a sinistra 6 per destra 3 in sinistra 2, gira e chiude 40 al cartello sfiora a destra 4 e sfiora a sinistra per destra 2, meno gira 40 e sfiora a sinistra 3, più vai 80 vai sfiora a sinistra 4, più 4, più per destra 3 sacrifica sfiora a sinistra 3, meno per destra 5, vai e sfiora a sinistra 5, lunga lunga, piena subito accenno destro, come prima e al cartello destra 2, meno e al cartello destra 2, meno 2, meno vai 40 anticipa a sinistra 2, più apre per anticipa a sinistra 2, chiude vai 50 e sfiora a sinistra 4, meno per destra 5, più 40 attenzione stretto e ingresso a destra ingresso a destra sposta adesso voi e destra 2 e sinistra 6, lunga sfiora subito destra 2 e sfiora a sinistra 4, più vai 40 vai 4, più vai 40 sfiora a sinistra 3, più 50 3, più sfiora a sinistra per destra 2, più e sfiora a sinistra 4, meno subito a destra 2, meno e sfiora a sinistra e sinistra 3, più sfiora alla fine subito a destra 4, più e sinistra 6, vai per accenno destro sinistro e destra 3, più vai 40 attenzione ritarda sinistra 4, chiude 2 e anticipa dopo l'albero 40 destra 2, meno gira per accenno sinistro vai 50 apri vai accenno sinistro sfiora a sinistra 6, meno 40 al palo attenzione sfiora a sinistra 3, meno lunga 3, meno lunga per destra 2, più lunga lunga gira e ritarda a sinistra 4, più lunga chiude sfiora al palo chiude sfiora al palo vai 100 destri e sfiora a sinistra 3, meno gira 3, meno 30 sfiora a destra 3, più apre per destra 3, meno taglia 30 e sfiora a sinistra 5, meno meno continuo 4, vai e sfiora a sinistra 4, più lunga piena in destra 4, meno sfiora 4, meno sfiora 40 attenzione sagri di sfiora a sinistra 3, gira per destra 4, più vai 50 e sfiora a destra 6 per dosso dritto e sinistra 6 attenzione stretto che ingresso a destra si stretto e ingresso a sinistra e sfiora a sinistra 5, meno per destra 4, più lunga vai 80 grazie